Ciao, io sono Luca di approccialla.it e in questo video analizzeremo una chat sbagliata fra un ragazzo e una ragazza per aiutarti a capire meglio le donne. Per iniziale ti ricordo che mercoledì 15 dicembre 2021, ore 21, rilascerò una video-reazione gratuita online, pre-registrata, quindi non in diretta, dal titolo Capire le donne. Un viaggio politicamente scorretto alla scoperta della mente femminile per capire cosa innesca la scintilla dell'attrazione, cosa infiamma i desideri più inconfessabili delle donne e cosa le fa innamorare follemente di un uomo anche quando non è quello giusto per loro. Quindi, in altre parole, cosa vogliono davvero le donne e come darglielo capendo la base della psicologia femminile. Puoi registrarti gratuitamente a questo evento online cliccando sul primo link in descrizione o andando sul sito www.capireledonne.com Quindi, adesso tra poco compariranno degli screenshot dove analizzeremo una chat fra uno studente di un corso al vivo di maggio 2021 con una ragazza conosciuta appunto durante quel corso al vivo e vedremo come il non capire le donne, non capire il sottotesto dei messaggi ti porta a bruciarti una ragazza che era prontissima a far sesso. Tranquillamente, sarebbe stato anche un appuntamento facilissimo e adesso tra poco vedremo la chat e in casi più gravi, che poi vedremo nel 15 dicembre 2021, addirittura ti porta il non capire il sottotesto dei messaggi di una ragazza, ti porta a bruciarti addirittura la tua ragazza, la tua fidanzata, che magari ti viene anche appena riconquistato. Sto citando esempi reali di studenti, poi lo vedremo meglio. Nella lezione gratuita a capire le donne è uno studente che era, forse era febbraio 2021, o forse non so. Comunque si era appena riconquistato la sua fidanzata e poi tramite tutta quanta una chat sbagliata dove non capiva i sottotesti dei messaggi, perché appunto non si capiscono le donne, perché gli uomini non capiscono un cazzo di niente delle donne e se gli uomini capissero le donne sarebbero circondati di un sacco di donne, ma non amiche, cioè le ragazze con cui vanno a letto avrebbero delle relazioni spettacolari, parlo di relazioni di coppia, quindi dove sono fidanzati, relazioni veramente felici con ragazze che sono scelti, anche tra un'amicizia, vivrebbero i rapporti con le donne in maniera super appagante. Esattamente l'opposto della realtà, la maggior parte dei uomini non hanno la minima idea di come si fa con le donne, vivono i rapporti con le donne in maniera frustrata, in maniera rancorosa, tanti uomini guardano soltanto da spettatori perché odiano le donne, perché sono rancorosi, sono incazzati con le donne, sono testronze, no, che non capisce le donne, quindi l'evento online del 15 dicembre serve appositamente a questo, a capire le donne, capirele donne.com, registrarsi è gratis. Quindi comparirà adesso una chat di uno studente, appunto lo studente che citavo un attimo, andiamo a commentare adesso messaggio per messaggio, tanto è piuttosto breve, però vediamo come veramente ci si perde una ragazza pronta per far sesso, non capendo il sottotesto dei messaggi e per favore non pensare adesso guardando da spettatore questa chat tu dall'esterno e magari dici, eh cazzo, lo studente è stato proprio stupido, io non avrei mica fatto questi errori, dai c'è, non si possono fare errori così assurdi, poi questa so che già sarà già la reazione di tantissime persone che guarderanno questa chat, perché a parole sono tutti bravi, tutti quanti gli uomini sono capaci di con le donne finché non devono andarci a parlare, ok, quindi non invito a non fare il figo con te stesso dicendo, eh ma cazzo era ovvio l'errore, era ovvio che poteva invitarla invece di perdere tempo, perché se non hai ad oggi risultati con le donne, non sei incapace di uscire, conosci un ragazzo e andarci a letto quando ti pare, trovarti una fidanzata quando ti pare, una fidanzata che ti soddisfi, non sei capace con le donne, quindi non fare il figo dicendo, ah io avrei saputo fare al chat meglio, dimostra, viviti i rapporti con le donne, datti da fare e poi va, non ci dilunghiamo adesso qua su questi discorsi, quindi partiamo con questa chat appunto qua addirittura la ragazza che scrive per prima, era un approccio di giorno per strada e si sono scambiati il contatto di pomeriggio e addirittura la ragazza che scrive il primo messaggio addirittura un messaggio anche molto lungo, questo è un segnale super positivo, cioè io direi che potevamo chiudere la chat anche qui, infatti il messaggio dopo probabilmente lo studente avrebbe potuto addirittura imitare la ragazza per un appuntento senza, cioè adesso leggiamo prima la chat, prima di commentarla, quindi prima leggiamola, ciao sono, qua c'è il nome censurato della ragazza, ci siamo incontrati oggi di pomeriggio nel Duomo, sono stata impegnata per cui ti scrivo a quest'ora, non ho capito una cosa, ma te oggi volevi prendere il caffè, comunque scusami se ti scrivo a quest'ora, lo studente risponde poi al mattino dopo, dice io quando il coprifuoco finisce chiudo gli occhi, tranquilla ci saranno altre occasioni, basta crearle, ora questo è un messaggio che è assolutamente sbagliato, cioè un messaggio così positivo, quando fai un approccio al vivo, se fai un'interazione fatta bene al vivo non serve perdere tempo in chat, serve se appunto fai un'interazione che non era particolarmente solida, giusto, bisogna chattare anche con la ragazza, ma l'obiettivo della chat è arrivare all'appuntamento, non far investire la ragazza giusto così per il gusto di chattarci e poi diventi il suo amichetto di chat mentre lei intanto sta uscendo con altri, quindi l'obiettivo della chat è arrivare all'appuntamento, nel caso di un'interazione dal vivo fatta molto bene e questo era il caso, addirittura che lei ti scrive per prima con un messaggio anche così lungo dove ti chiede già effettivamente del caffè, si va per l'invito già in questo primo messaggio, o meglio, adesso dico magari che cosa avrei scritto io, quindi allora lei, il messaggio alla ragazza era stata impegnata, non ho capito una cosa, te oggi vuoi prendere il caffè, avrebbe potuto scrivere un qualcosa del tipo, non so, se ci fosse stato il tempo, se ci sarebbe stato un caffè al chiuso con l'aria condizionata perché appunto era maggio, quindi non era ancora estate, però non è importante questa parte, quindi rispondere positivamente, effettivamente al fatto che sì, ci sarebbe stato un caffè se ci fosse stato il tempo e poi far muovere le cose avanti, che programmi hai per, quindi non so qua, non so che giorno fosse, però chiedere che programmi hai per i prossimi giorni, che programmi hai per il weekend, che programmi hai per domani, quindi chiedere che programmi hai per una certa fascia temporale, quindi far muovere le cose avanti, perché in questo caso dopo un segnale così evidente, a parte la ragazza, non si perde tempo in chat, bisogna far muovere le cose avanti, quindi non capendo i segnali che ti dà la ragazza, non capendo il sottotesto dei messaggi, dimostri alla ragazza che non hai intelligenza sociale, che non comprendi la situazione, che non sai appunto leggere i sottotesti dei messaggi, perché appunto non comprendi la psicologia femminile, quindi quando fai vedere alla ragazza che non hai intelligenza sociale, siccome appunto l'intelligenza sociale è una delle tre caratteristiche principali dalla quale le donne sono attratte, dimostrando che non hai questa capacità, la ragazza perde interesse, non è che lo perde istantaneamente, inizia a perdere interesse, però poco per volta, quindi lo studente è già qua, sta perdendo tempo, quindi leggiamo cosa scrive la ragazza dopo, lei dice, mi avrebbe fatto piacere prendere il caffè, comunque qua addirittura gli ribadisce ancora la ragazza, cazzo invitami per un caffè, non ti posso invitare io, perché non è il compito della ragazza invitarti per un appuntamento, quindi gli ribadisce questa cosa, comunque, siccome appunto gli uomini non capiscono un cazzo di niente, la psicologia femminile magari non riescono a vedere, io adesso lo sto spiegando, però qua la ragazza sta urlando allo studente, chiaramente le ragazze pensano di essere esplicite, ma siccome gli uomini non capiscono un cazzo di niente della psicologia femminile, anche se le donne te lo dico in maniera così esplicita, tanti uomini non lo riescono a vedere, perché appunto non capiscono un cazzo di niente delle donne, quindi qua però la ragazza sta urlando, invitami per un appuntamento, quindi lei dice, mi avrebbe fatto piacere prendere il caffè, comunque, sia anch'io credo, sia credo anch'io, ora che riapriranno tutto, poi pure con i vaccini che si è fatto bene, per l'estate dovremmo essere più tranquilli, speriamo, e lui risponde d'estate comanda il caffè freddo scecherato, poi qua c'è un audio che non ho a disposizione ho soltanto gli screenshot della chat, e qui la ragazza risponde, sì me l'avevi accennato Mattecheri di passaggio a Milano, io che non sarei stata molto lungo, per cui non ho avuto modo di dilungarmi, senti Mattecheri un'avventura, una relazione scopa amici? sincero, io non cerco questo, in questo momento sono più per una relazione seria da tuoi atteggiamenti, e anche da quello che dici, mi sembra che vuoi una cosa più easy leggiamo cosa ha scritto lo studente, poi dopo commentiamo tutto quanto lui risponde, mi ha fatto piacere, come mi ha fatto sentire domenica, ma se non vuoi apriarti non so cosa farci, qua c'è il nome della ragazza censurato nel caso in cui uscissi con altre, questo non vorrebbe dire che non rispettare la relazione ti garantisco che quando usciremmo saremmo solo io e te, qua c'è ancora il nome della ragazza, se mi dicessi che non vuoi più continuare questa cosa, ti capirei perfettamente se direi di andartene quando vuoi, e poi qua c'è un audio della ragazza, che adesso non so se lo ascoltiamo subito, comunque adesso lo ascoltiamo, però magari commentiamo un attimo prima questa cosa, cioè lo studente qua non ha capito un cazzo di niente di quello che stava dicendo la ragazza, qui se piacerebbe la ragazza stava mettendo un piccolo test allo studente, quando gli ha chiesto tu cerchi un'avventura o una relazione scopa amici? appunto la ragazza dice che in questo momento sono più per una relazione seria, ah sì? come tutte le ragazze, non diventa di nuovo, tutte quante le ragazze, la maggior parte delle ragazze cercano una relazione seria, quantomeno consciamente sanno che hanno interesse per una relazione seria, ma non significa che non possano avere un'altra amicizia o che non possano avere un'avventura della notte, ok? Occhio su confondere queste cose, quindi qua era semplicemente un piccolo test che lei chiedeva, tu cerchi un'avventura o una relazione scopa amici? a parte che adesso io dirò come si sarebbe dovuto rispondere, qua effettivamente via messaggio, quindi ci può anche tra le ragazze stare, incopiare la risposta, però se una ragazza te lo chiede dal vivo, e capita, potrebbe capitare che una ragazza te lo chiede dal vivo non conta come rispondi, se effettivamente hai accusato il colpo internamente, ok? Quindi bisogna lavorare sulla cosiddetta impassibilità interiore, perché tu puoi dire rispondere la cosa che io adesso ti dirò di rispondere, però se dentro di te hai accusato il colpo, se sei agitato, se sei imbarazzato, se sei arrossito, pensi che lei ti stia attaccando, la vedi come non lo so, ok? Quindi se non riesci a mantenere l'impassibilità interiore quando una ragazza ha di testa, il testa è fallito automaticamente, non importa cosa tu dica, quindi una ragazza ti chiede cerchi un'avventura o una relazione scopa amici, qualsiasi uomo che ha una mentalità sana, e sono la minor parte, dovrebbe in realtà non partirei mai dal presupposto di cercare un'altra amicizia o una relazione seria, dovrebbe avere sempre entrambe le opzioni aperte, perché tanto lo capisci con il tempo, se poi una ragazza ti interessa di più per una relazione seria, oppure per un qualcosa di più casuale, e questa è esattamente la risposta poi da dare alla ragazza, quindi io rispondo, se capita che una ragazza mi dice una cosa di questo tipo, io le dico, guarda io non parto mai inizialmente con l'idea di cercare una relazione più seria o qualcosa di più casuale, perché tanto lo capisco poi con il tempo, se una ragazza mi interessa di più appunto per una relazione seria, oppure per un qualcosa di più casuale, di solito serve un po' di tempo per capirlo meglio, che è la realtà, ok, io non parto mai, quindi questa risposta deve provenire, proviene automaticamente da un mindset sano a livello sentimentale, quindi non parto mai con l'idea di approccio una ragazza e non mi interessa per una relazione, o mi interessa soltanto per una scopa amicizia, lo capisco con il tempo, le ragazze con le quali ho avuto relazioni più serie, inizialmente non sapevo, non so, ci sono andato a letto, continuando poi a frequentarla, però ho capito dopo un po' di volte che ci sono uscito, che poteva esserci un potenziale per qualcosa di più serio, però delle volte magari lo capisco già nel primo appuntento, o dopo la prima volta che ci ho fatto sesso, che magari non mi interessa per una troppa amicizia, ma non parto mai con l'idea di, ah, mi interessa, sto cercando una fidanzata, sto cercando una troppa amica, qualsiasi uomo che si vive le relazioni in maniera sana, dovrebbe avere sempre entrambe le opzioni aperte, anzi, tre opzioni aperte, perché c'è anche la possibilità di un avventurare una notte, ok? Se una ragazza è una turista, se ne va via il giorno dopo, non è che allora la devi automaticamente scartare, esiste anche un avventurare una notte, oppure se per qualche motivo ci hai fatto sesso, e poi anche una ragazza che è locale, che viene in la tua città, ci hai fatto sesso la prima volta, non ti sei trovato bene con lei, non ti è piaciuto qualcosa di lei, lecito, non voleva più rivedere, i ragazzi lo fanno sempre su base quotidiana, se un ragazzo non gli interessa più, non smette di rispondere, non lo frequenta più, se performi male a letto con una ragazza, una ragazza non ti vuole più rivedere, e quindi magari è stata semplicemente un'avventura di una notte, le ragazze non si fanno questi problemi, ce li facciamo noi, anzi voi, io non mi faccio questo tipo di problemi, me li facevo anch'io, ai tempi però, quando effettivamente un uomo si trova in condizione che magari deve rifiutare una ragazza, se è andato a letto con una ragazza, non ti è piaciuto qualcosa di lei ha letto, e quindi magari non la vuoi più rivedere, ci si fa tutti i moralismi, tutti i vari blocchi mentali, ma adesso come glielo dico, e poi non voglio ferirla, tranquillo, cioè le ragazze non ci pensano due secondi, lo fanno tutti i giorni da tutta la vita, rifiutare un ragazzo quando non gli interessa più. Quindi andando a riprendere un attimo la risposta a qualche dato lo studente, che è totalmente sbagliata, perché è una risposta logica, a parte la stronzata di usare il nome della ragazza così a sproposito, pensando che succeda qualcosa di magico utilizzando a ripetizione il nome della ragazza, comunque. Cioè cercando di spiegare, rileggo un attimo, mi ha fatto piacere come mi ha fatto sentire domenica, ma se non vuoi aprirti non so cosa farci. Altra dimostrazione di non intelligenza sociale. Qua lei non è che non si sta, che non si vuole aprire, ti sta semplicemente testando, e lui l'ha interpretata come lei che non si vuole aprire. Quindi è proprio totale assenza di intelligenza sociale, giusto, normale, studente, agli inizi, giusto, però questo è esattamente quello che succede quando non si capiscono le donne, quando non si capiscono i sottotesti dei messaggi, in questo caso questo è un video sulla parte di chat, su capire i sottotesti della chat. Lui qua l'ha interpretato come lei che non si vuole aprire, no, era semplicemente un test, tutto lì. Quindi dimostri alla ragazza non intelligenza sociale, la ragazza perde sempre più interesse. Andiamo avanti sempre nella risposta, e lo studente dice nel caso in cui uscissi con altre, questo non vorrebbe dire non rispettare la relazione, ti garantisco che quando usceremmo saremmo solo io e te. Non puoi spiegargli in maniera logica a una ragazza, porca di una puttana, le donne sono emozionali, l'uomo è logico, non puoi spiegare in maniera logica a una ragazza una cosa di questo tipo, va fatto impostando certe cose nella parte di relazioni, o altri corsi per la parte di relazioni coppia, non puoi spiegare una roba della ragazza di questo tipo in maniera logica, comunque. Se mi dicessi che non vuoi più continuare questa cosa, capire perfettamente sia libera di andartene quando vuoi. Vabbè, sentiamo adesso qua l'audio della ragazza e poi dopo lo commentiamo. Ti mando un vocale per quello che mi hai scritto, potrei scriverti un romanzo. Comunque, allora io ti dico, io quando ti ho incontrato, che ci siamo parlati a impatto, così mi sei piaciuto come ti sei approcciato. Però poi dopo, no, non è che io non mi voglio aprire con te, però ti dico anche che in questo momento, diciamo che mi hai beccata nel momento sbagliato, cioè io ti capisco se sono d'accordo, se ti hai voglia di avere una relazione del tipo scopo amici o un'avventura e poi è finita lì. E perché ci sta anche quello, ci sta anche divertirsi, ma in questo momento è qualcosa che io non voglio. Forse in un altro momento ci sarei stato con te. E poi niente, diciamo che ti avevo anche selezionato perché ci sarebbero altri due ragazzi che appunto io prima di te li ho conosciuti, però sto anche, cioè dopo che ho conosciuto te stavo vedendo e, sincera, dopo che ho conosciuto, mentre stavo appena conoscendoti, diciamo, ti avrei messo per primo tra gli altri due. Però niente, ora che ti, cioè comunque mi hai detto questa cosa qua, ti ripeto, sì, io sono libera di andarmene, però come io ho la mia, ti hai la tua e ci sta questa cosa. Quindi no, io, cioè non voglio continuare con ti, famio. Quindi commentiamo un po' questo audio e questa ragazza parte in questo audio dicendo appunto che inizialmente era interessata, però poi no. Cosa che ho detto fino adesso nel video, l'approccio al video è stato spettacolare addirittura, la ragazza che ha scritto per prima e subito gli ha fatto capire che ci stava per primo puntento. Però una dimostrazione di non intelligenza sociale, seconda dimostrazione di non intelligenza sociale, che poi è la terza, il colpo di grazia, ma già la seconda era più o meno il colpo di grazia, stai dimostrando alla ragazza che non intelligenza sociale, siccome l'intelligenza sociale crea attrazione, far vedere la ragazza che non ha questa abilità fa scendere l'interesse della ragazza. Quindi appunto questa ragazza dice all'inizio mi hai colpito molto, mi hai interessato molto, però poi dopo no. Ok? Quindi bisogna sapere. Il problema era in chat. Questo è uno dei rari casi in cui il problema non è nell'approccio al vivo, perché il 99% delle volte quando la ragazza poi non arrivi a rivederla per l'appuntento, da un approccio al vivo, è perché hai fatto l'errore dal vivo. In questo caso è uno di pochi casi in cui l'errore via chat. Addirittura un'interazione fatta così bene dal vivo viene rovinata poi da una chat sbagliata perché non si capisce come funziona le donne, la psicologia femminile che di conseguenza poi non capisci il sottotesto dei messaggi e ti perdi opportunità con ragazze che erano praticamente pronte a uscire con te già dal primo messaggio. Addirittura in casi più gravi ti perdi addirittura la tua ragazza, la ragazza con la quale hai una relazione. Quindi lei dice, poi a un certo punto in audio dice non è che non mi voglio aprire con te, è che mi hai beccata nel momento sbagliato. Per il momento sbagliato lei si riferiva al fatto che appunto dalle cose che gli ha detto poi nell'audio lei gli ha fatto capire indirettamente, magari non l'hai capito perché appunto non hai dimestichezza con il linguaggio femminile, con la psicologia femminile, però questa ragazza dall'audio gli ha fatto capire che lei in passato ha avuto tranquillamente scopo amicizie. Quindi non è una ragazza che ha avuto soltanto relazioni serie, è una ragazza che ha avuto anche scopo amicizie e qui quando dice che mi hai beccata nel momento sbagliato intende che mi hai beccata in un momento in cui cerco una relazione seria e non mi interessa. Una scopo amicizia. Falso. Non è così. Ogni ragazza può avere in qualsiasi momento sia una relazione seria, sia una scopo amicizia, sia un'avventura della notte in base all'uomo che si trova davanti, in base alle capacità dell'uomo che ha davanti, in base a quanto valore porta l'uomo che ha davanti. Ok? Adesso non ci diminuiamo qua su questi discorsi. C'è la lezione Capire le donne. 15 dicembre 2021, ore 21, registrarsi con link in descrizione o su capireledonne.com. Quindi ogni ragazza può fare, può intraprendere, chiamiamolo così, una di queste tre possibilità. Relazione seria, trovo amicizia o avventura della notte in base all'uomo che si trova di fronte. Quindi è falsa questa cosa, non bisogna credere. tutto quello che dicono le donne. Bisogna capire quando c'è un sottotesto e quando effettivamente la ragazza intende quello che sta dicendo, ovvero l'1% delle volte. Addirittura questa ragazza gli dice che c'erano anche altri concorrenti, altri candidati con i quali si stava sentendo, però dopo che aveva conosciuto lui, dopo quell'approccio dal vivo di giorno, l'aveva messo in cima alla lista delle priorità. Quindi l'aveva messo in cima alla lista di questi candidati, tutte quante le ragazze si sentono con più ragazzi contemporaneamente, se la cosa ti disturba, è un problema tuo, vivi nel mondo delle favole, le ragazze si sentono contemporaneamente con diversi uomini, quindi devi essere migliore in questa competizione, il che è molto facile quando conosci effettivamente come funzionano le donne, sei sempre tra l'eccezione. Poi in alcune conversazioni dopo il sesso che ho registrato appunto con ragazze con le quali sono stato letto in questi anni, da volte capitava che magari registravo con il registratore vocale del telefono le conversazioni dopo il sesso e tante volte, poi lo sentirai in alcune conversazioni che sentiremo nella lezione del 15 dicembre, il 90% delle ragazze tutte le volte mi dicono che non ho mai fatto sesso con qualcuno al primo appuntamento, perché nel momento in cui sei capace, sei sempre tu l'eccezione. Non ci rilunghiamo adesso qua su questi discorsi, però è veramente assurdo come il non capisco, cioè non è che è assurdo, è assurdo quando non capisci effettivamente la psicologia femminile, però quando effettivamente non capisci il sottotesto dei messaggi, evidentemente da essere stato messo in cima alla lista dei candidati, scendi giù nel dimenticatoio in due secondi dopo due messaggi malati sbagliati, ma non è che sono i messaggi in sé malati sbagliati, è il fatto di dimostrare alla ragazza che non capisci quello che ti sta dicendo. Perciò se vuoi evitare anche tu di perderti opportunità di questo tipo o anche poi quando sarai in una relazione con una ragazza, o addirittura se sei già in una relazione con una ragazza, se vuoi evitare poi di perderti opportunità, registrati la lezione gratuita del 15 dicembre 2021, ore 21, lezione dal titolo Capire le donne, trovi tutti i riferimenti cliccando sul primo link in descrizione oppure andando sul sito www.capireledonne.com Detto ciò, ci vediamo al prossimo video! Iscriviti al nostro canale